Luce Verde, Roma. Ancora difficoltà sulla Tuscolana, dove per un incidente si sono formate lunghe code in uscita da Roma, da Via delle Capannella, lo svincolo a Nagnina del Raccordo, in direzione quindi di Frascati, poi sulla Via Ardiatina, attenzione, code in uscita da Roma, da Via Millevoi, a Via di Torricola. Lo ricordiamo, per lavori si transita a senso unico alternato, traffico congestionato in Via di Torcarbone, in Via Rodeattico, ci sono code anche in Via Appia, Pignatelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi. Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.